A volte mi approprio di cose che non dico, perché un po' nella scrittura, nella letteratura, nella poesia come nella psicanalisi mi sento sempre come se fossi in un gioco di specchi, quindi io non so se la forma reale è la mia o quale, se non siano forse tutte reali o se non ce ne sia nessuna, quindi mi trovo a parlare con le voci di altri che parlano attraverso la mia voce. E quindi appunto, essendo nato come un gioco, che poi per me è tutta un po' finzione ed è serissimo questo gioco, cioè lo faccio con grande impegno, però insomma mi è piaciuto inserire anche questo all'interno del blocco. Certo, io mi ricordo che l'ultima volta che parlammo insieme di poesia comunque si trattava di un bestiario, quindi gli animali sono molto presenti nella tua produzione poetica.